Grazie a tutti. Grazie a tutti. Su dai, dammi il libro. Aspetta, dov'ha? Il libro, non dirmi che l'hai persa. Vi sono ora qui! Ma sei un idiota! Il libro, non dirmi che l'hai persa. Qui starà sicuro. Dobbiamo assolutamente recuperarla, non possiamo farci sfuggire questo libro. Sì, ma se ci scoprono... Piantala, non fare la pignicolona, la recupereremo. Dobbiamo solo aspettare, abbiamo già creato troppi casini. Infatti, se solo non ti fosse caduto, idiota... Smettila, non è solo colpa sua se eravamo troppo frettolosi. Però, se l'abbiamo perso, sicuramente qualcun altro me l'avrà trovato, no? Sì, molto probabile. Ciò ci complicherà le cose, non siamo gli unici che vogliono questo libro. Abbiamo trovato il libro. Posso solo recuperarlo. Chiamate i due ragazzi. Ok ragazzi, sappiamo dove è il libro. Se la prima volta abbiamo fallito, questa volta non dobbiamo sbagliare. 30 minuti, dentro e fuori. Perfetto, recuperiamolo. I ragazzi sono arrivati. Bene. Poi non ci hai chiamato? Tu. Perché ridi? No, è che ti immaginavo diverso. Beh sì, non fa una pega. Voi, questo libro dovete recuperare. Ma questo cos'è? Roblox? Molto spiritoso. No, voi siete gli unici che potete trovare e recuperare questo libro. Ma perché dovremmo farlo? Non abbiamo nessun incentivo, nessun motivo per aiutarti. Comunque, l'incentivo c'è. Questa, invece, è la mappa. E voi questo posto lo conoscete, da vero? Sì, ma è passato molto tempo. Sarà cambiato. E l'incentivo, ora che ve lo mostro. Giù le mani. Sì, bene. E ora che avete l'incentivo, ve ne potete anche andare. Ora è tutto nelle vostre mani. Avete 45 minuti di tempo. Prendete il libro e preparatevi al punto di ristrazione. Buona fortuna. Prendete il libro. Bene, siamo dentro, ora? Non lo so, dove potrebbe essere il libro? In biblioteca? Andiamo, veloce. Ok, uno resta fuori, l'altro entra. Non dobbiamo farci beccare. Ok, vai tu, io controllo. Ok. Ok, vai tu, io controllo. Dov'è? Dov'è qua? Dov'è il libro? Dov'è questo? Non sono mai stato bravo con le biblioteche. Non ce la farò mai. Anche questo. Dov'è questo? Dov'è finito questo pazzo? È perso? Hai trovato? No. Ma è possibile che non trovi mai niente? Ma è impossibile, ci sono troppi libri. E continua a cercare, non lo so. Qui non c'è, andiamo avanti, senti. No, non è questo. Eccolo, è lì. Oh, yes, baby. Ma non quello, è deficiente l'altro. Ah, questo? Sì. Ma sono pagine bianche. Non è possibile. Ma non è questo. Di nuovo. Mannaggia, ce l'avevo sperato. Vabbè, mettiamoci a cercare avanti, dai. Senti, il libro sicuramente non è qua. Cerchiamo la parte altra parte. Deve esserci. Il tipo ce l'ha detto. Ma non sapeva neanche di cosa stava parlando. Ma con tutti i soldi che ci ha offerto è impossibile che non sia qua. Sì, ok. Però abbiamo già perso un sacco di tempo. Abbiamo solo 45 minuti. Muoviamoci, dai. Cazzo vero. Andiamo nelle aule. Va bene, proviamo. Mamma, non mi devi ricordare così faticoso. Dai, muoviti. Ok, tu vai in aula di risultato e io vado in aula di italiano. Va bene. Ma ti sembra il caso di suonare la chitarra? Hai trovato qualcosa? Troppo. Andiamo, proviamo avanti, vai. Oh, non è aperto questo. Non mangi niente. Cos'è quello? Non lo so. Potrebbe essere un inizio. Cos'è il secondo me? Non lo so. È stampato. È molto preciso. Magari serve a qualcosa all'inizio. Eh, non c'è molto su cui rispettare. La aula di geografia. Non siamo ancora stati in aula di geografia. È vero, andiamo qua. Lo prendo con noi questo. Sì, andiamo. film. Oh. non c'è niente neanche qua è la mappa della scuola sono della stessa misura ok se noi siamo qua questa cos'è? l'entrata ha un radio informatica andiamo guarda questo è acceso è acceso cos'è? sono delle informazioni sul libro ma questo è importante leggi questo libro è un libro è importante è veramente distante non siamo responsabili per lui dobbiamo trovare questo armadio guarda ma chissà dov'è sembra un po' una cantina ah il gerosa aspetta ho sentito qualcosa vieni veloci è è è è è è Ecco questa è in Gerosa Non lo so è in qualche informazione in più L'armadio è quello che guardavamo Era quello nella foto Sì Il libro L'hai trovato? Sì E questo? E questo? Veramente? Sì E allora cosa facciamo? Andiamo Ma... Andiamo? Voi non andate da nessuna parte Voi non andate da nessuna parte Voi non andate da nessuna parte Voi? Sì Ce l'abbiamo fatta Ce ne frega di nuovo Ma è una gioia Che bastardi Ma ogni turn Sì 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 Hai qualcosa da dirci Oh nooo Eeeh 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 Non arriva bene Perfumi Oddio perfetto Eeeh Le tue fans Sono meno bene Eeeh 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 Grazie a tutti.